I sindacati incontrano gli studenti. L'evento è promosso dalla FIOM e ha visto protagonisti gli studenti dell'Istituto Tecnico Alessandrini di Montesilvano. È un'iniziativa che abbiamo messo in piedi da qualche tempo. Il nostro interesse era spiegare che cos'è il sindacato, il rapporto che c'è stato storico con la sinistra che oggi non c'è più, aprire una discussione con loro, partire da quello che è il futuro, il futuro che non può prescindere dalle situazioni ambientali. Noi viviamo su un pianeta che è finito, le risorse sono finite perché non sono risorse infinite e quindi c'è bisogno di riprogettare un nuovo modello di sviluppo. I giovani però non prendono a cuore esclusivamente la questione ambientalista, come vorrebbe una recente narrazione mediatica. Proprio dall'Istituto Alessandrini arriva una proposta concreta a proposito di un'altra enorme emergenza, quella che riguarda il diritto all'abitare. Queste imprese edili con il contratto fatto con il comune può dare locazione ad ecocanone con le imprese edili. Questi appartamenti dati in locazione al comune vengono girati alle famiglie sia italiane che straniere a un prezzo ecocanone. Dopo questo pagamento di questa ecocanone viene rigirato alle imprese edili e tutto questo sia rispetto del condominio, rispetto della legge e altre situazioni. Di quel tavolo tecnico appunto per la trasformazione della proposta in delibera comunale non si è avuta più alcuna notizia.